... ... ... ... ... Passiamo alla ripresa, davvero entusiasmante, al diciottesimo lancio un luogo per Suárez che spizzica sull'attaccante di volo, l'occasione è grande come una cassa. Al ventesimo il Nardò passa in vantaggio il grande intervento di Parlassino che evolve in area e realizza il 2-1. Dopo 8 minuti di giro sulla gara a posto dal diritto, il prossimo Parlassino parte a finito di testa. In montata però tira fuori fuori, al trentasettesimo di un trattato di seda, a profita di un luminaria che parte l'estimo a Fio. Quando tutte le speranze sembravano male, ecco il trento, Arendt, sull'estito di passi, che l'oltre consegna alla liga di un paio di speranza. Grazie. 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 Grazie.